Ragazzi bentornati sul mio canale, siamo su Assassin's Creed Valhalla Dobbiamo andare al portale Aspettate un secondo che c'ho Dice che ho collocato una roba qua, vabbè niente Ok eccoci qua Dobbiamo usare il portale raga Abbandona Asgard La grande fine Eh 5.000 madonna Dove ci porta? No mi sa che ci sveglia raga Vediamo Mi sa di si che ci sveglia sapete eh Sì, ci ha svegliati ok Ora ben stop Bentornato Hai un viso radioso e occhi più sereni Raccontami tutto ciò che hai visto Io Ecco sono stato ad Asgard Nel regno degli dei Ho visto con gli occhi di Odino Come dicevi tu Nelle visioni Incarnavo la sua forma Vivevo la sua vita Nel suo corpo Ero me stesso Ma ero mosso dai suoi scopi I suoi pensieri Mi erano chiari quanto i miei Ero me Ma in lui Coesistevamo E cosa hai appreso? Più che apprendere Sentivo Sentivo ogni cosa I suoi timori I dubbi Gli amori Le passioni Incredibile Che altro? Mi intrattenevo con l'Ogi Ingannatore Litigavamo spesso Come due fratelli Ma tale inimicizia degenerava Mi svelava di avere generato un lupo E io mi infuriavo Perché ti aveva nascosto la verità? Sì Poiché sapeva che i lupi erano banditi da Asgard Ha ignorato un mio ordine Forse la visione vuole suggerirti qualcosa Che devi affrontare una paura E trovare il perdono nel tuo cuore Forse Ma la visione proseguiva E io mi prefiggevo uno scopo Per conseguirlo Avrei dovuto raggiungere Jotunheim E poi Mi sono svegliato Interessante Cos'altro ricordi? Ricordo una profezia Sul Ragnarok La distruzione del mondo E la fine dei tempi E le Norni Mi parlavano del grande lupo Fenrir Assetato del mio sangue Ma c'era qualcos'altro Speranza Non ero turbato dall'imminente cataclisma Forse questa parte Aveva lo scopo di ispirarti coraggio Sei davvero in contatto con gli dei C'è altro ancora? Ehm no Niente altro Niente che avesse grande importanza Il sogno è svanito Eivor Non avevo mai sentito Divisioni come queste Lasciami sola Devo pensare a ciò che hai condiviso Ok Ho 4 punti talento adesso Potenziamoci un bel po' Raga che mi serve Cioè Ehm Danni abilità Sicuramente Salute E poi Uno slot di adrenalina in più Ehm Potrei toglierlo però questo no? E se lo togliessi a qualcosa che non mi serve? No Ma cosa l'ho dato? Vediamo se c'è qualcosa a cui l'ho dato Che non serva a niente Manolesta Gazzaladra Questa non ce l'ho Questo cos'è? No va bene dai Va bene così Ok Ah no no Hanno altre due Che imbecille È vero? Aspetta Aspetta È vero che ne avevo 4 Danni corpo a corpo Ehm Fuoco Accumulo da fuoco Danni da fuoco Ehm Vabbè danni corpo a corpo Ok Missioni Spostare gli equilibri L'idea di te è stata catturata Ora i danesi hanno un vantaggio Inaspettato Ehm Basterà convincere A rivelare dove si trova suo marito Irede Ok Sempre più a fondo Raccoglie le piante per la prossima pozione di Valca No voglio aspettare questa Un dono dall'altro mondo Potenza massima 57 Un nuovo arrivo All'insediamento Offre prospettiva Che persino di dei Troverebbero l'allettante Parla con il nuovo artigiano La saga Dimenticata Io lo conoscio Un uomo in grado Di creare armi leggendari Delle incontro Facciamo questa raga Che bella Dov'è il nuovo artigiano? Qua Se mi può fare Delle armi più potenti Questa mi serve Sicuramente Dov'è? Qua Ma eccolo là Eccolo là Eh devo stare qua Ok parla Eivor Figlio di Val Eivor morso di lupo Sei tu? Sì Ti conosco Non ricordi Perché eri giovane Ma io fui ospite A casa tua Molti anni fa Questo è per te Il corno Dai dromele Di Sottungra Com'è possibile? Puoi evocare Oggetti dai sogni È solo una copia L'ho creato Da una storia Che mi fu raccontata Da tuo padre Lui è morto E io lo offro a te È proprio come Lo immaginavo Nella mia mente Da come Varin Lo descriveva Hai creato oggetti Da altre storie Solo se il narratore Era bravo Tuo padre Lo era Sarebbe stato Un buon scaldo Puoi riuscirci Anche da sogni O visioni Puoi evocare cose Da un altro mondo Alcuni sognatori Non parlano Altri non sono chiari I veggenti Parlano troppo E offuscano La visione Con Che cosa è Questa storia Di evocare cose Da un altro mondo Più che altro Immaginarle Nel nostro Quando Ho l'immagine La sua forma Mi parla In una lingua Che ancora Non riesco A comprendere Questo è il corno Di Suddung Valca Da Jotunheim Come gli fu Descritto da Varin Non mi piace Quest'idea Di smerciare Visioni Ma se serve A rievocare Bei ricordi Di tuo padre Forse può Rivelarsi utile Ti porterò Una pozione Che permetterà A Ivor Di sognare Con chiarezza Se te ne approfitterai Avrai una morte Dolorosa Non devi Disturparti Tanto Potresti Darmi La ricetta Ti porterò Una pozione Non andare Troppo a fondo Non sappiamo Se dovrai Pagarne il prezzo Non pagheremo Alcun prezzo Agli dei Hai sentito Non prende nulla Dai loro mondi Si limita A immaginare E costruire Intendevo Ciò che pagherai A te stesso Preparerò Il mio Laboratorio Torna Da me Quando vorrai Iniziare Ah Laboratorio Di Everworld Ah Che si Fa Grazie Volevo Solo Entrare Qua dentro Niente Non posso Entrare Da qua Ok Troppo scomodo Cos'è Bevi la pozione Cosa mi fa Questa adesso Bene E ci Riadormentiamo Ma pensavo Che mi costruisse Le cose Quindi ritorno Ad Asgard Che sembra brillare Di luce Proprio Il secondo Genetido Di nevo Dopo la morte Di Badr Per Mano Di Surt Molti Credettero Che Lavi Potesse Perdere Ogni Volontà Ma Questo Non era Inizio Dalla Sua fine Predito La Strega Delle Morti L'artefice Dimondi Aveva Semplicemente Deciso Di compiere Un'altra Impresa Impossibile Una Via Molte C'è la saga Dimenticata E' Un DLC Sapete che Non lo so Raga Mi sa di si Che è un DLC Non ne ho idea Raga Io volevo Solo Prendermi Oddio Odino Sono Odino Almeno Credo Sì Sono Odino Per forza Quei corvi Quando mi sei vicino Caro corpo La mia memoria E' chiara Lo scopo E' preciso Quaggiù A Niflheim E' tutto Più confuso Lo sai Non puoi seguirmi Riesco a malapena Ad attraversare La barriera Difensiva E solo se Abbandono Le mie fide armi Non offenderti Se ti perdessi Chi resterebbe A ricordarmi Il mio scopo Sì Baldr Mio figlio Luce del mondo Prigioniero Nel castello Di Hell Ci è stato Portato via Ci è stato Tolto Non metterò Pace Sconfiggerò Il destino E libererò Altra Dal mondo Dai morti Hai ragione Munin Se voglio farlo Sarà meglio Agire in fretta È tempo Di fare Visita A Hell È Lime Accampamento Di Udino Sì Sono Udino Raga Boh raga Non so Devo Svegliati No 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 Cosa devo fare Visualizza Completi Ah Devo saltare Immagino Che figata Madonna Madonna Kaldstad Accesso Attrattatura A ogni inizio Di nuova partita Però Resta disponibile Una selezione Casola Di equipaggiamenti Di partenza Quando tornerai A ne Potrei provare Una nuova combinazione Di attrezzature E abilità Fiamma Dorata Ma cos'è Raga Vi giuro Che non so Cosa sia Io ve lo metto Penso sia Tipo Un Roguelike E E Immagino Che quando Muoio Un Magiscrino Si apre Solo Quando Tutti I nemici Circo Sono Di concludere Lo sconto Per Sprucare Le Compense Suo Interno Ok 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 Vediamo Cosa Ricopensa Potenziamento Salute Sogni Più Quattro Ricordi Ah E In base A quante cose Faccio Poi Quando Mi Sveglio Lui mi Dà Dai Forse Ho capito Raga Oh Madonna Porca Vacca Ok Oh Oh Madonna Sono Più Forte Qua Che Eh Vabbè Questo Mi Vede Si Ho Chiuso Cos'è Oh Madonna Chi È Ah Oh Madonna C'è Vabbè Ah Tutti Uccisi Seleziona Ricompensi Selezionano Ricompensi Sfine Le altre Non hanno Perse Ah Ah Ok Ah ok Ah ok Eh due mani Ok Ok Dov'è 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 che Dov'è che devo andare Su Vabbè raga Facciamo Fin dove Riesco ad arrivare Sono scemo Dove devo andare Scusa Qua sopra No Di là Di là Di là Di là Di là Di là Quindi mi posso svegliare Ma poi ricomincio da capo Può essere Ok Ok Ah non esplode Questo Ma che cazzo Eh vabbè Dove sono gli altri Scusa Quindi Boh Come Loro Ah Boh Che palle Eh non ho letto C'è due che scappi Eh Quindi ma Vi giuro Non capisco Questa roba Ah E mi curo In torino Non si può salvare O si può Gli oggetti Di recuperazione Ah no Posso salvare Ah ok E si salva Quando si spezza E questo è Salvataggio Se si Mi sveglio No No io non vedo Salvataggi Ok Ora si Raga io proverei A svegliarmi Vi dico la verità Ma non so come Animus Abbandona partita No Come faccio A svegliarmi Raga Dai Dov'è? Qua sopra? Che palle Ok Colpo del berserker Furia di guerra Massimo 3 secondi Questo Ah Raga Però io non capisco Vediamo Mondo Forse da qua No Ah Per ritornare Devo andare Ripristina Colloca segnali Indietro Inventario Menù principale No Non posso Raga Quindi Devo farmela Tutta Immagino Vediamo Se ce la faccio Sconfigge Tutti i nemici Secondo Entro il tempo Delimito Per scoprire Forzare DL Se alla scoperta Non lo scoperta Tutti i nemici Non potrai Aprire Forzare Sì Vabbè Va bene Ok Potenziamento Salute Eh la madonna Ma è tantissimo Oh Quindi finché non muoio Forse Può essere Quanto devo andare Su Dai Ah mi ha visto Ok Sì Sì ma perché scappi Allora Dov'è l'altro Ah eccolo qua Ok Sì dai È come Ok come God of War E poi mi sveglio Però siccome che Vediamo Là c'è tipo un boss Cosa c'è qua Scusa Perché visitare un negozio Se il mio negozio Fa visitate Vabbè dai Mostrami il tuo negozio Ah ok Questi li compro A due mani No no Va bene Va bene Qua dentro C'è un boss Sì c'è un boss Vanguard Vanguard Vattene O farò un monumento Con le tue Orsa Ti ho donato io Questo regno Mia cara Ma lo dissolverò Se mi negherai Valtra Tu mi hai dato Un mondo inospitale Destinato ai disonorati E ai reietti Io ho dato loro Uno scopo Quale scopo? Un'eternità di morte continua No Una nuova vita Libera dal terrore della morte Ai miei servitori Io concedo la rinascita Oh madonna Che cazzo è Ai ya Sadonna Oh raga Difficilissimo Cacchio Oh madonna Ai ya E che c'è stafa? Cacchio Ah no Devo Cacchio No Sì L'ho giuso Completo Sbloccato Quando è completo È in uso Destinato a Nalfheim Nell'inganno di Loki Baden è il prigioniero Nel castello di El Dove solo Odino Avrebbe usato Tentare di liberarlo L'abbia attraverso La barriera difensiva Ed entrò a Caldastad Una terra desolata Priva di calore Dura e selvaggia Il primo mondo Di Nalfheim Era popolato Da Jotun Lasciava intuire Un freddo Proposito di El Volto a chissà Quale oscuro Disegno E tipo ogni volta Che vado da lui Lui mi fa Vedere ste robe Mi sveglio adesso Ah no Ok Adesso c'è Accesso Dockerland Però entro Io posso Svegliarmi Giusto? Credo Ok Ok Scominciando la seconda partita Tra i pensieri Tornare all'accampamento Di Odino Per spendermi In cambio Di pronunciamento Ok Ok Il problema È che non so Ah ok Posso tornare All'accampamento Di Odino Ma non ho visto I viaggi rapidi E quello è il problema Eh Lo farei Io Ma non posso Eh Potenzialmente Completati Raga Io mi ammazzo Aspettate Mi ammazzo Un secondo Perché voglio Tornare Nel mio mondo In Toria Se mi sveglio Adesso Dovrei tornare Nella realtà Giusto? Ok Sì Tanto avevo 9 di vita Eh Ok Continua Ok Ok Ho capito Io so uccidere Ogni sorta di creatura Ma Infatti Il trono Nell'accampamento Mio Ah no Invece Sì Vedete È un roguelike Credi davvero Di potermi Respingere Ho tirato fuori Il tuo mondo Da Emyr Lo rispedilo dritto Nell'abisso oscuro Settevo Credo che non possano Sentirti Supremo Tor Sei qui per offrirmi Il tuo aiuto Figlio Porto notizie Da casa La guerra Scuote i cancelli Di Asgard Mentre tu ti culli Nel sogno Di salvare Baldra In vita mia Ho ribaltato Molte previsioni Con gesti impensabili Come potrai essere Da meno Se è in gioco La vita di tuo fratello Il mio fratellastro È morto Non ci sono Vite in gioco Tu non fai Che dare consigli Ma ti guardi bene Dall'accettarli Sai farmi il nome Di qualcuno Più saggio di me Che abbia vissuto Più battaglie Più morti E più sacrifici No Allora spero Che tu capisca Figlio Per quale motivo Non accetto consigli Dunque Ritornerai là A Nifelaim E ci tornerò Finché servirà Ok Quindi Ora puoi sbloccare Usare i talenti Con ricordi Nel campamento di Odino Ok In teoria Io adesso posso svegliarmi E mi sveglio Sì Ti ricordi Quando farei ritorno Ok Quindi questo è Una Una specie di Roguelike Come Valhalla Di God of War Mi delle sì Valhalla di God of War Ok Ok Vediamo cosa Cosa ci dice Il nostro fabbro Come cavolo si chiama Ok vediamo Rilassati Vedere Vedere Ah ma va a cagare Ma le devo comprare Comunque Con le gemme Che trovo là Ok 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 Ho capito Ho capito Cosa devo fare qua Ah no no Via via Ok questa missione Penso sia Una missione Secondaria Anche se mi dice Un dono Sì sì Vedi Non c'è un capitolo Ok ok Facciamoci questo Anche se in realtà Dovrei fare No questo non è un capitolo Ok quindi Questa è tutta secondaria Questo invece è proprio Il capitolo Capitolo 3 Ok Era per capire raga Questo invece sì Capitolo 1 Dovrei finirli Questi qua Potenza stimata 62 Ok sono ancora Molto lontano Allora continuerò Con questo E niente ragazzi Vi saluto E ci becchiamo Al prossimo episodio Questo è un episodio A parte Niente E Che dirvi Lo faremo O lo proverò a fare Tutto Più avanti Magari Vediamo Anche perché È un po' difficile Da portare un rogo like Su youtube Anche perché Ho mollato Returnal Proprio per quello Perché se no Non andavo avanti Con la storia Vabbè Al prossimo episodio Bella raga